Ciao e benvenuto all'interno della pagina dedicata al sesto mini corso di matematica finanziaria il numero 6 matematica attuariale che si occupa delle assicurazioni sul sito www.andrealmatematico.it che si occupa della tua formazione in matematica, matematica finanziaria, finanza statistica ed economia politica accedere a questa pagina è veramente molto semplice dalla sezione in alto video corsi andate su matematica finanziaria cliccando finirete nella pagina dei video corsi di matematica finanziaria sotto corsi completi eserciziari avete i mini corsi ovvero il percorso che deve essere seguito per apprendere appieno la materia della matematica finanziaria parte tutto dal numero 1, i concetti base e regimi, poi abbiamo le operazioni finanziarie del rendite che costituiscono il cuore della materia i piani di ammortamento, i criteri di valutazione e scelta dei progetti, il prezzo delle azioni e obbligazioni e la struttura dei tassi e poi la matematica attuariale, basta andare a cliccare su matematica attuariale, vi si aprirà appunto sul lato destro la pagina dedicata al corso di matematica attuariale con le informazioni vedete che qui avete sotto corso le principali caratteristiche di questo corso dove abbiamo 15 lezioni circa 7 ore di video materiali in pdf scaricabili per ogni lezione con schemi chiari e colorati e spiegazioni passo a passo per avere info maggiori basta andare su info dettagliate e vedete che qui vi si aprirà uno dei 300 articoli che ho scritto sul sito dove dopo una premessa che riguarda appunto il concetto di matematica attuariale e il concetto di premio equo di valore attuale attuariale e dopo aver ricordato come deve essere seguito un percorso di matematica finanziaria nei 6 punti che poi sono i 6 minicorsi della materia avremo tutti gli argomenti che sono trattati all'interno del corso numero 6 matematica attuariale quindi la struttura nei seguenti punti quindi vedremo cos'è un contratto di assicurazione cos'è una funzione biometrica e come leggere le tavole statistiche entreremo nel diciamo calcolo delle probabilità di vita o di morte vedremo il concetto di valore attuale attuariale la vita media e la vita probabile la vita media residua i contratti elementari caso vita il calcolo del premio puro unico cosa sono i contratti di rendita caso vita i contratti elementari caso morte i contratti di rendita caso morte i contratti misti quindi vita e morte il calcolo dei primi periodici ed infine il concetto di riserva matematica dove vedete la parte in rosso vuol dire che qua sotto c'è un articolo che riguarda proprio questo argomento quindi vedete che non so ad esempio io qui apro l'articolo dedicato alla matematica attuariale il calcolo delle probabilità articoli che potete chiaramente leggere sul sito anche come integrazione alle lezioni quindi ad esempio in questo caso viene chiarito il termine attuariale cos'è un contratto di assicurazione quali sono le parti di un contratto di assicurazione il contraente, l'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario, il premio eccetera che cos'è il valore attuale attuariale come leggere delle tavole e così via fino poi arrivare al calcolo delle probabilità di vita e di morte per qualsiasi dubbio che riguarda l'iscrizione a questo corso vedete che ho creato una sezione forum entrata in forum matematica finanziaria e vedete dove c'è iscrizione ai video corsi di matematica finanziaria chiaramente dovete essere loggati con il vostro nome utente e password e potrete andare a fare quindi delle domande che riguarderanno questi corsi prima di ogni acquisto vi invito a controllare in alto se appunto c'è una sezione promozioni perché magari ci sono appunto dei pacchetti promozionali se voi state acquistando tutti i corsi di matematica finanziaria tutti i corsi di matematica insomma guardate sempre le promozioni o volete assistere a corsi dal vivo che verrà introdotta anche questa lezione sezione controllate sempre le promozioni quindi che dire insomma non perdere tempo e accedi al sesto mini corso di matematica finanziaria quindi ricapitolando video corsi matematica finanziaria sotto i mini corsi vedete che avete l'elenco completo di quello che deve essere il percorso di matematica finanziaria e la matematica attuariale la trovate al numero 6 ciao 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 ciao